Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dei cattivi odori segnalati in più angoli della città di Arezzo. Adesso arriva la proroga di altri sei mesi allo studio olfattometrico. Gli annusatori resteranno a lavoro fino a marzo 2025. E' stato infatti prolungato di altri sei mesi lo studio olfattometrico, come deliberato dalla Giunta, che è stanziato altri 42.400 euro per un costo totale che supera così i 100.000 euro. Le segnalazioni erano iniziate nel maggio 2022, quando molti cittadini che abitano nelle zone di San Zeno, Le Poggiola, Ponte Chiani, Ruscello, Battifolle e Olmo lamentavano la presenza di cattivi odori, che poi si sono intensificati a partire dal giugno 2023. Ad aprile scorso era così iniziato lo studio olfattometrico affidato all'Ecola Studio di Lucca. Erano stati selezionati gli incaricati, regolarmente retribuiti e formati a riconoscere gli odori tipici che sono stati oggetto delle ripetute segnalazioni. I nasi scelti hanno effettuato sopralluoghi in date e orari richiesti, seguendo percorsi prestabiliti e sostando impostazioni prefissate, dove eseguire la misurazione sensoriale, ovvero annusare l'aria di intervalli e inserire nel questionario la propria sensazione olfattiva. Inizialmente l'indagine sarebbe dovuta durare sei mesi, ma adesso arriva la proroga. L'obiettivo finale resta quello di produrre una mappa di frequenza e intensità degli odori. E sul caso sono intervenuti anche i consiglieri comunali di Scelguarezzo, Marco Donati e Valentina Sileno. Una vicenda, dichiarano, che da ridicola sta assumendo i contorni della Surreale. Oltre a non risolvere il problema e lasciare i cittadini con il disagio, non si capisce dove si voglia arrivare con questa proroga. Facciamo notare che il costo complessivo di questa operazione ha superato i 100.000 euro, risorse che ancora una volta concludono la Giunta, sceglie di destinare altrove rispetto a quello che servirebbe ai cittadini. E proprio l'amministrazione comunale questa mattina invece ha inaugurato un nuovo tratto dedicato alla mobilità dolce che da oggi connette la zona di Tortaia con quella di Maccaignolo. Stamani il taglio del nastro. Un nuovo tratto dedicato alla mobilità dolce che connette da oggi la zona Tortaia con quella di Maccaignolo, collegando così due quartieri densamente popolati. Abbiamo con oggi inaugurato un nuovo tratto che va a collegare due tratti ciclabili già esistenti. Oggi siamo nella zona Tortaia con questo nuovo tratto di circa 500 metri. Andiamo a collegare la zona Tortaia con la zona dell'ospedale, con la zona di Saione, un collegamento che come inserito nel Pums, nel Biciplan, serviva proprio per dare continuità ai percorsi ciclabili già esistenti e grazie ai fondi del PNRR e alla parte tecnica dell'amministrazione che aveva portato avanti con il Biciplan tutto quello che è necessario per sviluppare la mobilità sostenibile, e con questa nuova inaugurazione abbiamo dato continuità a quelli che sono i percorsi già esistenti nella nostra città. L'importo dei lavori, interamente finanziato dal PNRR, è pari a 175.800 euro. Che rientrano nel percorso di rigenerazione urbana. Ricordo che con questo investimento l'amministrazione ha progettato e già messo in campo, e in parte ci sono i lavori in corso, circa 7 nuovi chilometri di piste ciclabili che vanno a completare il percorso completo di circa 50 chilometri che sono all'interno del Comune di Arezzo. Quindi grandi investimenti da parte dell'amministrazione che cerca non solo con le infrastrutture, ma sicuramente le infrastrutture sono il punto principale per sviluppare la mobilità sostenibile insieme alla promozione e soprattutto all'interno delle scuole per dare un nuovo volto, una nuova vivacità a quello che sarà il futuro della nostra città e sicuramente della mobilità sostenibile. Parliamo adesso di sanità. Ottobre, il mese rosa, il mese della prevenzione per il tumore al seno. In provincia di Arezzo due open day e una camminata in rosa. Ad Arezzo ogni anno 350 donne si ammalano di tumore al seno, quasi una diagnosi al giorno. Un dato che fa riflettere chi accende i riflettori sull'importanza della prevenzione. A proprio ottobre, mese rosa della prevenzione, vede scendere in campo l'asla toscana sud-est per sensibilizzare le donne su questa patologia. Una camminata notturna è rosa ad Arezzo e due open day sono stati organizzati per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno. Il primo open day si terrà sabato 5 ottobre a Montevarchi presso il Palazzo del Podestà in due fasce orarie matutine pomeridiana. Il secondo invece fissato per venerdì 19 ottobre presso l'unità operativa dipartimentale di senologia dell'ospedale San Donato con l'obiettivo di sensibilizzare le donne sull'importanza dell'autoesame del seno, l'appropriatezza nel richiedere esami diagnostici di prevenzione e l'adesione allo screening mammografico. Infine il 15 ottobre si terrà la camminata notturna in rosa al Parco Giotto di Arezzo. Nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati 55.900 nuovi casi di tumore al seno. Si tratta della neoplasia più frequente nel genere femminile in tutte le fasce d'età. Nel reparto di radioterapia invece grazie ad una donazione della tribù dei nasi rossi arrivano dei pannelli che riproducono un parato di margherite per aiutare così i pazienti nei percorsi di cura. Margherite Bianche alle pareti per aiutare i pazienti nel percorso di cura. I pannelli sono stati installati nella sala d'attesa della radioterapia dell'ospedale San Donato di Arezzo. La nostra volontà è quella appunto come operatori di poter curare il paziente a 360 gradi. Quindi è assolutamente importante un percorso di cura che passi attraverso la tecnologia, la radioterapia, i farmaci ma è altrettanto importante curare il paziente a 360 gradi poterlo accogliere e sostenere anche da un punto di vista psicologico, relazionale e credo che anche un ambiente accogliente con degli abbellimenti come potete vedere che riguardano quest'ambiente floreale alle pareti, le luci, il cielo siano di assoluta importanza e di grande anche sollievo per chi deve affrontare un percorso di cura che è molto difficile. A donarli la tribù dei nazi rossi che da oltre 20 anni con i suoi clown collabora con l'ospedale Aretino. Ci tengo a ricordare che l'anno prossimo saranno 25 anni di presenza qui a San Donato e quindi noi di questo siamo orgogliosi. Perché portare un sorriso? Perché ci crediamo? Perché è una cosa provata scientificamente che ci dà dei risultati veramente importanti perché i medici qui sono assolutamente all'avanguardia e noi siamo veramente fortunati ad Arezzo. Però trovare anche un ambiente che ti rilassa senz'altro aiuta ad affrontare meglio le cure. Una donazione dal valore di 8.000 euro che rientra nel progetto di umanizzazione delle cure portato avanti dall'ospedale di Arezzo. Noi abbiamo molto a cuore gli aspetti di accoglienza e di umanizzazione dei nostri ambienti soprattutto degli ambienti all'interno dei quali accogliamo le persone più fragili, quelle che hanno più bisogno di sentirsi a proprio agio e magari più a casa che noi in un ospedale. Quindi qualsiasi iniziativa che ci viene proposta la sposiamo molto volentieri. Restiamo all'ospedale San Donato. Continua infatti il progetto di ammodernamento. Oggi l'annuncio dell'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione energetica. L'ospedale del prossimo futuro ad Arezzo porterà dunque un minore impatto ambientale e un risparmio di 164.000 kilowatt pari al consumo medio annuo di 57 famiglie. Le modifiche riguarderanno nel dettaglio 274 apparecchi illuminanti esterni e 880 corpi illuminanti interni. L'intervento ha un costo complessivo di circa 778.000 euro e verrà avviato nell'inverno 2024. All'Istituto Agazzi invece arriva un servizio di educativa domiciliare e territoriale per giovani adulti con disturbi del neurosviluppo. L'Istituto ha strutturato un nuovo progetto per andare a prevedere interventi a supporto e sviluppo di abilità nelle diverse aree della vita quotidiana in persone con età tra i 14 e i 65 anni. Il servizio sarà strutturato attraverso percorsi personalizzati per favorire una preparazione alla vita indipendente a seconda degli specifici bisogni di ogni utente in ambiti come lavoro a tempo libero, autonomia domestica, inclusione nella comunità e relazioni affettive. Adesso voltiamo pagina alla Casa dell'Energia di Arezzo, una giornata di studi per condividere riflessioni, criticità e buone pratiche sul tema della conciliazione vita-lavoro. Vediamo che sulla sicurezza sul lavoro abbiamo dei problemi enormi e molte volte abbiamo dei problemi anche nella conciliazione tra l'aspetto professionale e l'aspetto familiare. Per esempio, prendiamo il mio caso, anche io sono un genitore, ho un bambino di 9 anni e non sempre è possibile riuscire a svolgere i due ruoli nella maniera corretta. Io dirigo questa struttura, quindi gli impegni ovviamente ci sono e il mio welfare, come dico sempre, sono i nonni. Una giornata di studi per condividere riflessioni, riflessioni, criticità e buone pratiche sul tema della conciliazione vita-lavoro. L'incontro inserito nel progetto vita-lavoro Toscana, promosso dalla Regione, è stato ospitato dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Un confronto tra istituzioni, enti studiosi e ricercatori per sensibilizzare sulle opportunità, per promuovere una maggiore valorizzazione delle donne nel mercato del lavoro. La situazione in provincia di Arezzo è di una presenza forte di lavoratrici concentrate soprattutto nei settori del lavoro di pulizia, sanificazione degli ambienti, di assistenza sia basica sia qualificata all'interno di aziende molto grandi, peraltro, con più di 50 dipendenti che operano nel settore dell'assistenza e della cura delle persone fragili, che dimostra una segregazione orizzontale, cioè la presenza di donne soprattutto in settori tradizionali e una scarsa presenza nei settori invece altamente qualificati. Esiste anche un problema molto consistente derivante dalla presenza forte di part-time a carico delle lavoratrici, il che dimostra chiaramente la difficoltà delle donne di conciliare la vita con il lavoro, per cui la scelta delle donne è quella di lavorare meno ore per poter far fronte alle esigenze dei propri nuclei familiari. Servono politiche di sostegno dunque al welfare aziendale, il bando della regione toscana va proprio in questa direzione. Sì, questo bando noi ci auguriamo che sia davvero importante per tutte quelle aziende che in maniera giusta e lungimirante decidono di investire sul welfare aziendale. Noi crediamo che questo sia un passo indispensabile per garantire appunto la possibilità di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro per le lavoratrici ma anche per i lavoratori. Infatti un altro tema è che nel nostro paese, che è un paese ancora oggi patriarcale, parliamo di conciliazione sempre solo al femminile. Invece noi vogliamo promuovere anche un cambiamento culturale necessario per appunto arrivare a una più equa distribuzione del carico di cura che oggi grava esclusivamente invece sulle spalle delle donne limitando anche la loro possibilità di crescita all'interno del mondo del lavoro e le loro opportunità di carriera. Ecco, attraverso queste misure noi vorremmo promuovere invece una conciliazione che sia per i lavoratrici che sia per i lavoratori e anche una più equa distribuzione del carico di cura proprio perché crediamo che incentivare l'occupazione femminile sia assolutamente fondamentale prima di tutto per una questione di giustizia sociale ma anche per far crescere il nostro paese. Solidarietà in buone mani. L'associazione presieduta da Don Giuliano Faragli e fondata da padre Arturo Burresti ripropone anche nella 2024 la quinta edizione della giornata della Benefattore a Castiglionna Fiorentino. Si tratta di un evento annuale in occasione del quale si intende a ringraziare tutti i benefattori e coloro che hanno sostenuto il raggiungimento degli obiettivi. Un momento di festa ma anche di riflessione e condivisione. L'iniziativa è in programma domenica 6 ottobre. L'associazione opera sia in Africa che in Peru grandi risultati raggiunti in entrambi i contesti. Dalle scuole alle strutture sportive realizzate in Sierra Reone grazie al sostegno anche di Leonardo Pieraccioni al riconoscimento di eccellenza italiana ricevuto in Peru. E adesso torniamo in città al Vialo Juta Music Festival. Protagonisti del primo appuntamento è il pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, la musicista polacca Veronica Zajek alla viola e per la prima volta ad Arezzo il prodigio cinese Lila al violoncello assieme ballerini del National Ballet di Londra e l'orchestra dell'Arezzo Juta Music Festival Under 35. Il concerto è inaugurale in programma domani alle 19 al Teatro Petrarca di Arezzo. In Valdichiana invece questo fine settimana la sesta edizione di Ruote nella storia, il raduno ACI di auto d'epoca. Si svolgerà nella cornice della Valdichiana Aretina la sesta edizione di Ruote nella storia, il tradizionale raduno di auto storiche organizzato da ACI Arezzo e da ACI Storico in calendario per domeniche a 6 ottobre. Già 60 i mezzi iscritti. Quest'anno abbiamo scelto Cortona anche perché Cortona rappresenta l'eccellenza di un procegno interessantissimo per poter far ospitare tante macchine d'epoca che verranno nel corso di quella giornata domenica. Per noi è una grande opportunità anche per promuovere il territorio. In quella giornata i tanti partecipanti vivranno la città nel suo complesso anche come ospiti dell'amministrazione comunale anche potendo visitare il MAEC oltre che vivendo la città. È un modo per promuovere l'automobilismo d'epoca che è un modo per valorizzare dei veri e propri cimeli ma che sono frutto dell'ingegno umano e anche per promuovere il territorio stesso perché durante la giornata ci sarà la ripresa di ACI Sport che poi trasmetterà a livello nazionale questa iniziativa. Ringraziamo ACI, il presidente Bernardo Mennini e tutto il team per aver scelto la nostra località quindi Cortona. Ruote nella storia credo che non ci sia meglio luogo che Cortona per parlare di storia in questo caso di storia delle auto ma tuttavia non è la prima volta che le auto storiche toccano il nostro territorio in questo caso l'organizzazione di ACI siamo molto contenti ospiteremo l'arrivo delle auto la mattina con una colazione assieme a loro per poi procedere anche durante il giorno alle premiazioni della sala del Consiglio Comunale ci sarà un itinerario molto interessante toccheranno anche Foiano sì ma torneranno poi tutte le auto a Cortona quindi un grazie ancora per l'impegno profuso e soprattutto per portare ricchezza ancora una volta al nostro territorio cortonese. Passiamo alla pagina dello sport Torre Sarezzo in programma domenica alle 15 è stata inserita dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive nelle gare a rischio a causa degli episodi che si sono verificati domenica scorsa tra sostenitori Aretini e Ternani adesso aspetta dunque al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive la decisione che consentirà o meno ai circa 100 tifosi amaranto di affrontare la trasferta in Sardegna al momento il Comitato ha bloccato la prevendita dei biglietti. La quinta partita di campionato dell'Arezzo Calcio Femminile nel quale affronterà l'Orobica Bergamo verrà invece disputata allo stadio dei Pini di Fogliano della Chiama a causa di interventi di manutenzione straordinaria di areggiature e semina del manto erboso del città di Arezzo. Essendo lo stadio di Fogliano sprovviso della certificazione TULPS per la sicurezza la gara di domenica verrà disputata a porte chiuse l'accesso sarà riservato ai soli autorizzati. Ne amaranto sono reduci della pesante sconfitta di Bologna la prima in campionato. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci.